Tutto a un tratto, eccomi qua, sdraiato sui miei sessanta e mesi, giorni, ore, minuti, già andati, come un uomo grigio qualunque, senza più esplosioni la cui vita assomiglia a un orizzonte retto, pallido, che separa la terra al cielo, appassionato della fluente normalità e dall'impossibilità di reagire ad essa, a cercare di numerare non l'inespresso, ma ciò che vedo oltre il solito rettangolo, oltre quello che c'è e non mi appartiene, che all'ombra del silenzio vive con me. È possibile morire lentamente così? Forse sì, e la fine sarà portatrice felice di nessun senso. Niente porterò con me, se non il ricordo sonoro della voce mia degli altri, che lusingherà in eterno.